Avete capito bene? Ero lì che passeggiavo per la sesta dimensione e ho sentito delle cose che mi hanno fatto vergognare di essere italiana. Se fino a pochi anni fa si producevano ben 150 film porno, oggi se ne producono soltanto 4. Tutti i super dotati sono costretti ad andare a lavorare all'estero e ci sono contratti a termine così brevi che non si arriva alla fine di un amplesso e le produzioni sono costrette ad interrompere e rinegoziare tutto da capo. So di film che hanno dovuto ripetere i preliminari per più di 20 volte, così non si può andare avanti. Ci sono sprechi dappertutto, vibratori lasciati accesi che si fulminano, tonnellate e tonnellate di lubrificante che vanno buttate. Questo non è più tollerabile, però anche il singolo cittadino può fare molto esercitandosi in ogni momento possibile sull'autobus a scuola. Non si può sperare di recuperare grandi lacune in poco tempo, c'è bisogno davvero di darci dentro e fare il massimo. Ci vediamo alla prossima lezione.